Presentata la prima edizione del torneo interregionale di calcio denominato Molise Christmas Cup, l'evento si svolgerà quest'oggi a Cerro a Volturno presso l'impianto comunale Mario di Ianni e coinvolgerà diverse società sportive molisane, sia del calcio giovanile che dei campionati maggiori. Inoltre saranno presenti sul terreno di gioco insintetico del di anni anche la Vairano Academy di Vairano Patenora e l'Olimpia Cedas di Sulmona. Iniziativa promossa ed organizzata dalla società sportiva Volturnia in collaborazione con la FIGICI Molise, la regione Molise e il comune di Cerro a Volturno che si concluderà con un momento conviviale e sociale. A spiegare ai nostri microfoni l'importanza di questo appuntamento sportivo il vice sindaco di Cerro a Volturno Antonio Di Ciuccio e il responsabile della scuola calcio San Leucio Giancarlo Gianfrancesco. Ringrazio l'assessore Vincenzo Niro che ha scelto Cerro come location per la disputa di questa prima edizione Molise Christmas Cup, torneo interregionale di calcio e questa è l'ennesima conferma di come la nostra piccola comunità si addentra sempre più ad accogliere questi eventi di una certa grandezza. Visto anche l'importante intervento di wrestling che ha avuto lo stadio Mario D'Anni due anni fa. Noi facciamo un in bocca al lupo a questi ragazzi e sono sicuro che con il loro orgoglio e la loro voglia di fare raggiungeranno sicuramente ottimi traguardi. Sì innanzitutto ringraziamo l'amministrazione comunale di Cerro che ha dato questa opportunità ai nostri ragazzi. Un'opportunità di crescita, di crescita tecnica ma anche relazionale perché solo attraverso il confronto, attraverso le gare, quindi confronti dovuti ai tornei regionali ma anche interregionali i nostri ragazzi vengono fuori attraverso e vengono fuori fattori importanti per la loro crescita. La categoria che abbiamo scelto è la categoria esordienti perché la categoria, la struttura sia nel modulo sia negli spazi, spazi ridotti, 9 contro 9, porte ridotte fanno sì che emergano quelle che sono le peculiarità tecniche, valori tecnici dei nostri ragazzi. C'è un incentivo al duello uno contro uno, c'è quindi un incentivo a tattica individuale come il tiro in porta, quindi spero che riusciremo a far divertire i nostri ragazzi ma a far divertire anche il pubblico che ci seguirà durante questo evento, questa manifestazione.